musica perfetto, vediamo meglio no, erano due su vabbè, tira giù qui e tira giù qui eeeh, figli di puttana, non sa che fatta ma lei è sceso però tutto bene allora, con il sancio 5 eeeh, si ah, sono solo due questo così ah, ok, adesso si che si ragiona adesso si che si ragiona basta eeeh, mancano delle cose 9, 9, fatta ah, vedete che è il cazzetto di là 8, 8, 7 sarà questo di qua il cazzettino questa qua non l'abbiamo già girato questo esatto clean engine engine ready eeeh dico engine ready ok eeeh, quindi ma aspetta ah, prima a sinistra no, si prima a sinistra e dopo a destra ma se lo rifò prima a sinistra dopo a destra click si può fare ma la facca porca puttana siamo a cavallo no, vedete siamo su un treno questo affare fa rumore e allora? stiamo andando forte a 40.000 all'ora il rumore non mi interessa ok vediamoci questa pezza dai vediamo se si muove wait dobbiamo pensare a prendere cracker anzi prima sganciamo la rotaia poi ammazziamo il tipo se magari mi riesce a scendere non mi va di fare cose troppo affettate perchè come ben sapete sono un tipo che mi piace esplorare e soprattutto un gioco come questo che è spettacolare quindi ritorniamo di qua per sganciare il cazzetto allora contando che lì c'erano tre chiari non vorrei che ce ne o una di quelle tre apre questa merda è bloccato ma senza che come si la scaricheranno? ah dici prima mano? adesso ci muove meglio non ho capito che devi fare è bloccato ci serve molta forza per questo molta forza non mi dico che devi accendere poi oh c'è aspetta no qui mi ricordo che si poteva andare sulle scale ok ah ok torniamo un attimo di la ho detto di la qui non c'è un cazzo 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 mi sa che dobbiamo prendere la la cazzo inglese bravo ben ablami assisto visto cosa hai già fatto? nel senso semplicemente ma già non voglio spaventare come è questo? bene tolto un po' d'acqua ah grazie perfetto è allergico alle occhi è vero è l'unica cosa a cui riesco a pensare come se avessi qualche importanza no lo so beh io no ma probabilmente hai ragione come faccio? cazzo è grato per il tuo aiuto ma allora eh vabbè tocca rifare tutto il giro mmm non so se devo accendere prima il treno e poi sganciarlo o sennò andare a giociare con questi non so se devo accendere prima il treno non so se devo accendere prima il treno probabilmente è questo probabilmente è questo lì intanto è il cielo che è buio poi ritorno giorno vabbè vai giù nasa veloce poi vanno neanche non so se ne sono neanche sotto ha visto che c'è tipo qualcosa no e ritorniamo da là e ritorniamo da là e ritorniamo da là che ti devo dire minchia Oh, andrà bene con questo, eh, sicuro, sicuro, dai, su, sicuro, dai, questa funziona, è bloccato, forza, quindi lo devo accendere per forza, per farlo partire. Torniamo di qua, andiamo a prendere i kakras, anche a rischio e pericolo della nostra vita. Quando aveva accesso proprio oltre il treno, poi mentre c'è la forza del treno che spinge quello là, scala, qui ci sta l'altivo, stai zitto, apri la porta, cosa fare? Ah, che schifo, c'è un goccio, questa porta non farà male. Ah, ok, questa qui è la cosa più giusta. Vaffanculo. Ma che gli stai? Questa non esca, vediamo. Dai, non puoi. E se provi a prenderla così? Assolutamente no. Devi sparare per forza, allora. Troppo rumori. E come lo schiaffo? Vai. Ah, ok. Cioè, lo devo, lo devo, questo non ti piacerà. Picchialo. Oh. Tiff. Ah. Ah, io. Beh, gli abbiamo staccato la mascella e... Sti cazzi. Vabbè, abbiamo i crepe, questo è l'importante. Ok. Ci siamo visti. Abbiamo ucciso un erranti silenziosamente. Ma se ne trattati qua, che succede? Ok, si è entrato. Vabbè, è tutto. Ehm. Guarda, quello è l'acceleratore. Giusto. Però dovresti correre. Aia, casino. Damazione. Ok, ma certo, siamo ancora attaccati. Puoi andare a scoprire dove siamo bloccati e sbloccarci. Sì. Ah, ok. Allora, avevo ragione. Prima andava acceso il treno e dopo... Però prima andiamo a dare cracker a qualcuno. A Clementine. Lei c'ha sempre fame. Se lei non mangia, casca il mondo. Clemmie. No, non sa mai cazzo. Eh, sì, è che se... No, no. Che gli devo dare? Il mondo. È più pieno, sta bene qui fuori. Ma lo già l'è. Sì, sì, Simone. Mi sa che il duck non si sente bene. Neanche io. Diamo gli cracker, dai, su. Non c'ho l'opzione di cracker? Vabbè, diamoni, diamoni tutto a Katia. Vabbè, buon appetito. Tieni, ho trovato questi. Sì, se il duck se lo senti. Grazie, molto gentile. Lui non fa capricci, sai? Cosa? La maggior parte dei bambini fa capricci per mangiare certe cose. Magari adiano le verdure. Cose del genere. Non duck? No. Il massimo di provare che mi dai è che non puoi usare la forchetta. Grazie. Certo. Certo. Fa culo. Grazie, apprezzo la tua preoccupazione. Ok, è tempo di liberare il treno. Quanti giri avrò fatto qui? 40. Tanto di sicuro farò qualche taglia perché ci sono stato mezz'ora solo qui. Noi, non c'e' incazzo. Ora queste giù. Quindi ora posso usare queste. Ma vedi? Dai, eh. Oh, ma che cazzo? Sì, siamo sbloccati! Possiamo fuggire Ma ragazzi, come verrà tenere i doc? Hai visto? Hai toccato la mia roba? Wow, barbon! Non dovevi toccare la mia roba, figlio di puta! Chi sei? Il proprietario di quella roba Mi chiamo Chuck! C'è il tuo gruppo fuori? E' il tipo sulla cabina? Anche lui! Ti ho visto passare di qua e ho pensato di farti morire di paura Ma non potrei costringere la mia stessa favore Mi sta ancora facendo un po' di paura La gente da treno fa così Ho già conosciuto tutti fuori Al sole sono stati tutti molto calorosi Ah, ah, ah Al sole, calorosi, ma vai Ma, una titan Hai conosciuto Chuck? Si E' bello incontrare una persona ormai Tanto per cambiare Si 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 Buon appetito Buon appetito Buon appetito Quindi se non sei bene, chietto filo, apprezzo molto la tua preoccupazione, beh, un po' di cura amorevole sarà a posto in me che non si dica, amorevole, e posso offrire tutto quello che ho anche se non è molto, grazie, noi avremo a fare lo stesso, perché non aspettiamo prima di, resta con noi, ci farà di piacere e un po' di compagni, si sta facendo buio, eh, tipo la chitaria rimane ferma piantata e lui così, no, della serie, vieni qua, devo parlare con te, infatti, a proposito allora, siamo bloccati, qualcosa di pare, sì, ottimo, non ci è rimasto molto, prendi tutto quello che avete, andiamo, e d'accordo, non possiamo rischiare, anche se, buon passaggio, beh, pare che vi stia prendendo casa mia, a quanto pare, non so, non ho trovato niente di meglio, che quel valgone, per tenermi fuori, perché si è sciato, d'accordo, è morto, sali sul terreno per la mente, è un po' spavata, e c'è, infatti, ovvio, infatti, sta peggiorando, fammi dare un'occhiata, non possiamo ignorare questa cosa, guarda il ragazzo Ken, sta succedendo, non sta succedendo un cazzo, se c'è qualcosa, non è qui ce la possiamo fare, saliamo sul terreno e tremo qualcosa di meglio, e questo è il piano, credo che lì non voglia, sali sul cazzo, sarà diretto, non voglio sentire sciocchezza finché non arrivano dove stiamo andando, e questo è un po' spaventato, è un po' spaventato, è un po' spaventato, e questo è un po' spaventato, è un po' spaventato, è un po' spaventato, è un po' spaventato, e questo è un po' spaventato, è un po' spaventato, è un po' spaventato, è un po' spaventato, faccia soddisfatta, faccia depresso, barbone, faccia felice, faccia triste, dubitoso, wow, ti sta, come si dice, sembra un cadavere, cioè avete visto tipo le guance, come si dice, le gote, oh salve, ti manca, dove è la, ti manca la mano, ti manca un pezzo, c'è un feramento un po' vicino, magari puoi, merda, cioè nel senso, merda, non puoi, deve essere dura, eh, tra tutti che si prendono cuori dei ragazzi con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, figlio, noi eravamo giù, lì, 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 ho bisogno di te, subito, ho bisogno di che tu vada a prendere il cane, voglio tagliare quella della faccia, io qui con le mani piene, oh cazzo, che è quella faccia, che devo fare, ragazzi potete fare, no, no, cioè, va, cioè, merda, capiscimi, non gli rimanano il tempo, devono fermare questo treno, ok, ti prego, ok, calmati, un attimo, sì, ci buttiamo dal vagone, no, non me ne va, cioè, nel senso, non vuole la pena, io vado a prendere i canni, reggetevi forte, il treno potrà fermarti di fuori, vai a fermare questo treno molto rapidamente, ora fermo il treno, stai fermo, più fermo di così, ok, mio padre, ha detto che sono, stupido, perché ne devo stare fermo, porto il treno di merce, ah, quindi avanti, minchia, potevi andarci anche da sola, però, eh, devo, devo guidarti per ogni cosa, quando va al cesso, che devo fare, prendi la cartigetta, poi passa se me la per il culo, ehi canni, ha non ciso tuo, cioè, ha non ciso tuo figlio, devi fermare il treno, hai capito, che devo pensare io, giusto? canni, mostro, mostro lo stupido, can, che c'è, can, che diavolo è, sangue, stupido, guarda, teniti via lì, lo sai che sta morendo, nessuno ne sa un cazzo, se la caverà, cazzo, svegliatemi qui, è finita, è morto, non dire a me che mi do svegliare, è una famiglia vera da proteggere, non quella cazzo di, messi insieme a credere, che cazzo faccia a calmare dopo una giornata come oggi parlando con il tuo mio ma che c'è dannazioni è un po' malato non possiamo arrenderci ma non possiamo arrenderci è solo un graffio non è come gli altri qui sta solo peggiorando le cose e tu hai rinunciato a dar a tu smetti la maledizione vaffanculo lì tu adesso ascoli no dai dai come cazzo faccia a calmare dopo una giornata come oggi non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo Eh? Si invece, e adesso cosa mi sto rilasciando in fondo? Non è andata così, hai buttato il tuo figlio, è successo qualcosa di brutta che di qualcun altro Ah, all'inizio, ora ricordo, ma è impossibile che questo mondo lascivi dirmi un... ...quando aiutati a sapere, non è così che ci funziona? Beh, l'hack l'hanno lasciato a casa, ferma il treno a me Ha capito che andrà a fermare il treno, sennò lo fermo, vedi? Beh, su, dispiace, ho capito, grazie, ma vuoi schiantare per capire... Termina qui questo video gameplay, mi piaceggiate, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti E alla fanpage di Facebook che trovate in descrizione, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!